Buongiorno, nel lavoro che andiamo a concludere oggi abbiamo ben tre novità. Qui con me ho una slitta portafiltri e su questa slitta portafiltri abbiamo realizzato il raccordo per obiettivi fotografici. Dalla parte opposta abbiamo realizzato un raccordo per una camera scientifica sensibile nell'infrarosso lontano. Anche questi filtri sono speciali, sono tarati a lunghezza d'onda da 1500 a 2500 nanometri, quindi nell'estremo infrarosso. Se ne avete bisogno basta che mi contattate e ve li fornisco. Questi filtri hanno un diametro da un pollice, quindi l'ultima novità in questo lavoro è quello di aver realizzato una montatura per filtri da un pollice da poter applicare direttamente su questa slitta portafiltri. Adesso vi faccio vedere il montaggio del filtro. Il buon attivatore ottico per telecamera con uscita HDMA in ca. telecamera CCD. Embroscopio 1.6.8.8.8. alle 8,8.8. 2 3 0 Grazie a tutti. Lavoro concluso. Colgo l'occasione per ricordarvi che possiamo realizzare i raccordi per quasi tutti gli obiettivi, per quasi tutte le camere e anche per i filtri. Possiamo realizzare dei portafiltri per diverse misure, addirittura possiamo fornire i filtri con diametri su vostra richiesta. Grazie per avermi seguito e arrivederci al prossimo video. Ciao. Grazie. 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 Grazie.